Se è vero che ci sono dei luoghi che hanno un rapporto speciale con l'arte, mi fa piacere credere che Fontecchio sia uno di questi. E' una storia lunga quella che ci lega alla creatività e all'ospitalità degli artisti. Sperimentiamo un luogo nuovo stasera, ancora incompleto però era quello più adatto per accogliervi così numerosi e perché forse Fontecchio non è soltanto il paese medievale dove è suggestivo passeggiare, dove è bello vedere le case bottega, l'orologio, la fontana e anche la parte nuova, viva, che forse è la prova del fatto che vogliamo aggiungere bellezza a quella che abbiamo ereditato. C'è una comunità che è importante qui. Parlando con altri artisti qui a Fontecchio abbiamo deciso di fare una prima performance in settembre scorso, poi è nato un progetto itinerante.